Ho messo nel conto tutto, così l'incipit del posto di Claudio Fava nel quale spiega, racconta le ragioni per le quali ha deciso di dire sì alla richiesta di candidatura a governatore della Sicilia, richiesta arrivata da quella parte di sinistra che non vuole affano e che non si rivede nei volti di quello che è diventato il Partito Democratico. Ho messo in conto tutto, le critiche e giudizi aspri sul mio cambio di residenza, sul cognome, che in realtà porta da una vita e lo costringe a dimostrare sempre di più. Ma lo fa perché lo deve alla politica, scrive perché la politica gli ha dato tanti in questi anni. Considero questa campagna elettorale un mio dovere, al contempo la considero come un commiato, che fosse solo una fuga sarebbe triste. C'è un anelito di speranza nel manifesto di Fava che crede in una Sicilia ancora redimibile, nonostante le difficoltà della Terna. Non un accenno ai siciliani che invece salve, li salva perché non allora attribuisce le responsabilità. Quella di Claudio Fava è una candidatura difficile che però potrebbe interceltare quel voto di opinione che sembra ormai essere scomparso, che potrebbe attirare i puri e gli arrabbiati. Ecco come stanno le cose, scrive alla fine del suo lunghissimo post. Ma a me non conviene candidarmi, ma lo faccio lo stesso. Non per fare la guardia alla bandiera, ma per andare a cercare anime libere oltre l'ombra di ogni bandiera. Don Milani diceva che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca e Giuseppe Fava scriveva A che serve essere vivi se non si ha il coraggio di lottare? Belle domande. Ci servono solo per intersiare lapidi e per scrivere fiction. Sarebbe utile se ogni tanto accanto alle celebrazioni di martiri ed eroi ragionassimo in silenzio sulle parole che ci hanno lasciato.